Salve ragazzi, benvenuti su Opinione di Luzio. Oggi 20 novembre, ore 21.45. La città ve la dirò alla fine. Oggi vi voglio portare in risalto un fatto di come i ragazzi dall'età di 14 anni all'età di 18, nelle città campane, soprattutto di Napoli parliamo, non frequentano la scuola. Di come in certi posti, da Scampia a Torre del Greco o quanti altri paesi, logicamente i ragazzi su 20 alunni che vanno al primo anno, già a metà anno scolastico rimangono in 5, in 7, in 8. E poi a livello statistico dicono che il 10% è il calo negli ultimi 10 anni da parte dei ragazzi che hanno dall'età di 14 ai 18 anni, sono in calo nell'andare nelle scuole professionali. Le motivazioni sono due, dicono perché le scuole sono nell'abbandono, perché magari i genitori vivono nell'ignoranza e pensano che la scuola non serve a niente nel lavoro attivo, ma io voglio dire che a 14 anni non si può lavorare, perché a meno l'Italia non è proprio permesso, è permesso a 16 anni in poi, ma con delle regole che non so quanto possono essere osservate da un datore di lavoro. E quello che vi voglio ancora più sottolineare, logicamente, è che qui c'è sicuramente di mezzo il motivo della camorra, della mafia, che a livello economico è una figura commerciale più interessante della scuola, dell'introdurre il proprio figlio in una fabbrica, in un luogo di lavoro di artigianato, o in una pubblica amministrazione, o in un libro professionista, o in quant'altro, insomma, in quello che si trova più a suo agio, a fare il pittore o lo scrittore. Non crederci proprio a queste popolazioni, ok? È strano, perché poi a Napoli c'è una bellissima università, questo comunque sia, che viene più ambita dalle persone fuori di Napoli che dai stessi napoletani, forse. Ma questo è strano. Però questo vi voglio far riflettere di come, con una volta, magari, lo Stato che si fa sempre, soprattutto oggi, contro la mafia, però guarda caso, e dove c'è anche un nuovo De Magistris a Napoli che fa tanta propaganda di cambiare le cose, le scuole sono rimaste tali o quali, ok? In degrado, la palestra non funziona, laboratori magari nuovi ma inusati, è impossibile utilizzarli perché sono delle opere incompiute, rimasti lì, ragazzi che comunque si continuano a non frequentare la scuola, dopo due mesi vanno via, non si fanno più rivedere, e rimangono in 4-5 persone con strutture quello che sono. Qui c'è, logicamente, il grande potere della mafia che li raccoglie a braccia aperte, dà la maggiore accoglienza, ecologicamente c'è qualcuno a livello dietro alle quinte che dà la possibilità di strutturare che la scuola non sia appetibile per i giovani nel napoletano e in altri posti, insomma, dove la mafia naturalmente ha un potere forte, ok? Che possa essere la Sicilia, la Puglia o quanti altri posti, insomma, questi dovevano portare. E i cattivi maestri, come potete andare a cercare, sono un gruppo di persone che stanno lavorando per cercare nei quartieri di portare propaganda, di far sì che i ragazzi vanno nella scuola, ma le telecamere a Scampia non possono entrare, queste persone vanno a fare propaganda e le famiglie non le accettano a ben volentieri, perché come ho detto, non si tratta solo di quello che fanno vedere magari nelle televisioni che c'è l'ignoranza, la gente non ci crede nel lavoro nella scuola ma li mandano già a lavorare a 14 anni perché credono più nel lavoro di strada, no? Qui si tratta che è manovalanza per la mafia, ragazzi, perché il lavoro minorile nella mafia ne ha bisogno, perché non vanno in galera, non creano problemi, ok? Creano molto meno problemi della manovalanza adulta, ok? La manovalanza minorile è più facile da utilizzarla perché dà meno possibilità in qualche modo di poter far sì che la mafia crepi, ok? Perché è più sfruttabile la minorile, ok? Il ragazzino lo accontenti con meno e dà la possibilità che comunque sia penalmente magari venga punito con una minor pena e quindi anche per questo crepa di meno la possibilità, lo sbocco per la mafia di proliferare, ok? Questa è la riflessione che vi voglio portare, che voi penso che già saprete e ve lo domandate da tanto tempo, però facciatelo girare questo, siamo sempre a Senigallia, arrivederci.